un altro video test del galaxy s4 lo faccio perché ho ricevuto diversi messaggi di persone che mi chiedevano dell'autofocus andiamo a provare di nuovo come vedete non è velocissimo ma comunque direi nella media stabilizzatore attivo 1080 facciamo un cambio di luce il cambio di luce è gestito molto molto bene direi che comunque non è velocissimo però il suo lavoro lo fa insomma io non noto problematiche particolari con questo è tutto ciao da ivan non mi spiego non mi spiego